Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. L'assessore al bilancio di Palazzo Vecchio a Firenze, intervenendo in Consiglio Comunale, ha detto Nel bilancio 2024 del Comune c'è un aumento della spesa corrente di 27 milioni di euro. Non abbiamo toccato tasse o tariffe ed è un dato di grande rilievo. Inoltre sul recupero dell'evasione fiscale facciamo un record con 32 milioni di euro e un aumento di 2 milioni rispetto all'anno precedente. E sull'ipotesi lanciata da Firenze Democratica, in Consiglio Comunale di un aumento dell'IRPEF, l'assessore al bilancio ha detto Noi abbiamo preferito tassare i turisti piuttosto che i fiorentini. Pensiamo che questa sia una cosa equa, consente di tenere basse le tasse sulle famiglie. L'IRPEF è efficace. Con un semplice aumento alla media nazionale avremmo 45 milioni di euro in più al bilancio. Ma è qualcosa che pesa soprattutto sul lavoro dipendente e questo pensiamo sia un problema. Cecilia Del Re, ex assessore al Comune di Firenze, ha presentato due proposte in Consiglio Comunale. La prima è l'istituzione del salario minimo per i dipendenti del Comune e per le ditte che lavorano in appalto. A cominciare già dai prossimi bandi che saranno fatti nei mesi che ci separano alla fine del mandato. La seconda è l'acquisto da parte di Palazzo Vecchio dell'ex Hotel Astor, simbolo della crisi della politica abitativa del Comune, che potrà essere convertito in uno studentato pubblico. E nuova protesta stamani davanti all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per chiedere le dimissioni del console onorario di Israele, Carrai, dalla presidenza della fondazione. La protesta è promossa dai sanitari per Gaza e altre associazioni. Sono state consegnate 10.139 firme raccolte in 15 giorni tramite petizione anche sull'online e restituiti 120 ombrelli che erano stati donati ai dipendenti dell'ente. Ed è atteso, entro i grandi e attrezzati ospedali pediatrici italiani, il primo gruppo di bambini palestinesi che hanno bisogno di cure e che si stima possano arrivare già nella tarda serata di oggi, se non ci saranno problemi. I piccoli, che come sempre avviene in queste situazioni, potranno essere accompagnati da qualche familiare e arriveranno, secondo quanto si apprende, anche al Meyer di Firenze. La Guardia di Finanza di Pisa ha denunciato un uomo per indebita percezione di erogazioni pubbliche e, su disposizione del giudice, ha sequestrato oltre 375 mila euro di contributi in debiti sotto forma di crediti d'imposta relativa ai bonus facciate e ristrutturazioni edilizie. L'indagine ha smantellato un complesso schema fraudolento basato sull'emissione da parte di una società immobiliare pisana di un numero consistente di false dichiarazioni per attestare fittiziamente l'esecuzione di lavori edili, in prevalenza per il bonus facciate, nei confronti di vari condomini della provincia di Pisa. In realtà mai eseguiti oppure eseguiti per importi nettamente inferiori. Eni conferma la decisione di realizzare la terza bioraffineria in Italia a Livorno, progetto per il quale è stata presentata istanza di valutazione di impatto ambientale nel novembre 2022. Eni è in attesa del completamento delle autorizzazioni. Il servizio di banda ultralarga sbarca nel comune di Stazzema, siamo nella provincia di Lucca, con Open Fiverr, che realizza, nelle cosiddette aree bianche, oggetto di tre bandi con il contributo della regione toscana, un'infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale. A Stazzema è stata realizzata una nuova rete di oltre 36 km, che collega al momento 1.772 immobili situati nel capoluogo Stazzema e in alcune frazioni. A Coverciano Fabio Grosso ha vinto la panchina d'argento maschile per la stagione 2022-2023, con 22 voti. Al secondo posto Claudio Ranieri, al Cagliari con 16 voti, al terzo posto Alberto Gilardino con 6 voti. E' un premio che mi fa molto piacere ricevere, ha detto Fabio Grosso. Ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo, che si è conclusa in maniera splendida. Luciano Spalletti, a Coverciano oggi, per la panchina d'oro per la stagione 2022-2023, contrassegnata dalla vittoria dello Scudetto con il Napoli, ha detto questo premio assegnato dai colleghi che sono i migliori allenatori al mondo mi impone di essere un tecnico migliore per il futuro. Ha fatto in questi giorni un nuovo palo con targa toponomastica bifacciale per indicare il largo martiri delle foibe nei pressi della fortezza da Basso a Firenze. La targa era stata più volte vandalizzata. E l'attuale direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, parlando del futuro del museo e della scadenza del suo mandato, ha detto la Galleria dell'Accademia diventerà un museo di prima fascia insieme ai musei del Bargello. È un'opportunità per continuare magari a fare il lavoro che si è svolto. Ovviamente mi interesserò per questo nuovo posto. E l'anticiclone subtropicale perdurerà solitaria per almeno altri 12-14 giorni, portando tempo stabile e mite. I giorni della merla che iniziano oggi e che sono sempre stati considerati il periodo più freddo dell'inverno, saranno caratterizzati da un clima primaverile. Ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà sereno, salvo alcuni addensamenti, soprattutto nella mattina. I venti sono assenti, deboli meridionali, i mari poco mossi. Le temperature sono stazionari, un ulteriore lieve calo le minime, congelate mattutine sulla pianura soprattutto, in lieve calo le massime. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.